Alcune Barbie possono valere ben più di 100.000 dollari, come la Barbie più costosa al mondo, 244.000 dollari, o tante altre varie collezioni. 84.000 dollari per la The Beers, 8.000 dollari, la prima edizione, 7.000 dollari, Barbie il castello di diamanti, 94.000 dollari per un pezzo di plastica. Chissà adesso che è uscito il film quanto potrebbero aumentare ancora di più i prezzi. Quindi qual è la soluzione? Andiamo dal giocattolaio, dall'ipermercato, compriamo un po' di Barbie e aspettiamo che il prezzo chissà in futuro salirà e chissà di quanto? Io ho un'idea molto migliore sia in termini di profitto sia in termini di attualizzazione, cioè un'idea che puoi mettere in campo adesso. E quest'idea rende i 908 dollari al mese superando il 100% del capitale investito in termini di profitto e puoi mettere in campo appunto oggi. Ciao a tutti, io sono Francesco Buzzi e sono un trader a tempo pieno, professionista dal luglio del 2017 su future, valute, ETF e azioni. E proprio su azioni volevo parlarti, di azioni volevo parlarti, la Mattel. Conviene investire in borsa nella Mattel? No, è un'azione su cui non ci metterei neanche un dollaro. Questi sono i risultati della Mattel in borsa. Dal 1990 ha fatto il 4,3% di ritorno lordo annuo. 11 anni su 33 chiusi in negativo, cioè è una roba folle. L'anno peggiore ha chiuso almeno 43%, cioè avrebbe dimezzato praticamente l'investimento. E invece se guardiamo lato trading, trading di breve periodo, trading automatico, quindi senza neanche tutte queste angosce su aspettare che il prezzo salga, in neanche una settimana chiudi la posizione, beh Mattel dà soddisfazioni decisamente maggiori. Ho creato una strategia apposta su Mattel, automatica, che puoi mettere in campo da subito senza alcun problema, senza fare alcun tipo di analisi, che ha una buonissima regolarità e dei buonissimi riscontri. E adesso te ne parlo. Questo è il grafico di questa strategia appunto su Mattel dal 1998, quindi abbiamo 25 anni di storico. Ed è tra l'altro anche una strategia molto 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 semplice. Se hai dei dubbi sul fatto che le strategie automatiche è solo, che ne so, data mining, overfitting, cose complicate che poi non funzioneranno mai più, beh questa è una strategia che ha funzionato per 25 anni e si scrive in tre righe di codice, come saranno i miei studenti. È una strategia che va solo long, quindi mai short, quindi il rischio è bassissimo da questo punto di vista e guarda quando compra. Compra, entra a mercato, in questo caso investendo 10.000 dollari a leva 2, al minimo della barra precedente. Questo è l'ingresso a mercato. Esce dopo, se non sbaglio, al massimo 10 giorni, ha un profitto e uno stop loss di volatilità. Sto dicendo tante cose tecniche, se non le capisci non c'è problema, possiamo sempre approfondire, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che entra al minimo della barra precedente, se non c'è questa condizione non entra, quindi entra sul ritracciamento, entra bene, entra basso. Tutti noi vogliamo comprare basso e vendere alto. Ecco, entra basso, chiude la posizione in tre condizioni. O dopo 10 giorni, a posto, cioè non ci fai niente, la lasci andare, chiude la posizione. O se guadagna tanto in relazione ai movimenti che ha fatto nell'ultimo periodo, in relazione alla volatilità, allora chiude in profitto. Oppure può chiudere in stop, perché lo stop è sempre da utilizzare. Mi raccomando, la gestione del rischio è importante. E da questi ultimi trade si vede molto bene il tipo di comportamento che fa. In questo caso ha chiuso in profit. Questo serve vuol dire che ha chiuso in profit. In questo caso ha chiuso a tempo, quindi... ah no, tecnicamente dopo 7 giorni, se non vado errato, chiude la posizione. E anche qua ha chiuso la posizione al raggiungimento di una certa soglia. Quindi questi sono tre profit completamente automatici, che se vogliamo anche andare a vedere, hanno reso 850 dollari, 810 dollari, 643, 646 dollari. La strategia rende questo, quindi 1,40 di profit factor, 450 trade, 65% di trade vincenti, 150 dollari di average trade, che comunque è molto buono. E questo è il ritorno anno dopo anno. Certo, fa alcuni anni negativi, per carità, ma è una strategia clamorosamente semplice, a prova di bomba, perché ha lo stop loss, perché c'è pochissimo codice, perché entra da solo long, perché entra al minimo, quindi entra a un prezzo molto favorevole, ed è... non è scontato che non faccia anni da 5, 6, 7 mila dollari, cioè 40, 50, 60% del capitale investito. Cioè blocco 10 mila dollari, quello che mi rende è il 40%, il 50%, il 60%, in questo caso l'ordo, però sono risultati assolutamente importanti. E soprattutto ti danno la possibilità di guadagnare in relazione all'investimento tanto, senza dover aspettare 50 anni che il pezzo di plastica aumenti il proprio valore, senza doverti preoccupare che si rovini, senza dover guardare i trend del momento, senza dover fare delle aste strane, senza doverti preoccupare di nulla, perché è puro trading automatico. Entra in posizione da solo, chiude la posizione da solo e non ti fai alcun tipo di sbatti. Questo tipo di strategia, tra l'altro, uguale, eh? Questo esatto tipo di strategia l'ho applicata anche alle 100 azioni dell'SP100, e funziona sull'85% di queste azioni, quindi è veramente estremamente robusta. Se vuoi imparare a scrivere le strategie di tua, proprio a mano, con tutto il metodo, come costruire il codice, come validarle, come mettere in un portafoglio, come tradarle, eccetera, eccetera, oppure non te ne frega niente, vuoi tradare 15 o 40 delle mie strategie, seguito e supportato 24-7, facendo performance fino al 55% in un mese, come ha fatto uno dei nostri studenti a giugno, non c'è problema. Tutti i link sono in descrizione, tutte le informazioni sono in descrizione, oppure puoi scrivere a info-buzzway.it o puoi chiamare numero verde 800 475 300. Detto questo, io ti auguro una splendida serata, ci vediamo sabato con un nuovo video. Ciao ciao!